Ci abbiamo qui Deborah, Deborah come mai sei qui a Mita? Sì, sono qui perché in collaborazione con la professoressa Sicimiano, che fa questo progetto insomma contro la violenza sulle donne, è un tema a cui io sono molto legata. Quindi già abbiamo collaborato da quest'estate e mi ha chiesto insomma di poter portare la mia esperienza sia personale sia attoriale, perché ho recitato una puntata di Amore Criminale. Per me è stato un progetto molto importante sia come donna che come attrice. Cioè prima come donna e poi come attrice. Quindi è ottima la tua testimonianza anche in questo. Esatto, e quindi ci tenevo, sono scesa da Roma opposta, mi sto sentendo con la prof da quest'estate e quindi le avevo dato la mia parola e sono qui. Complimenti, non solo bella donna, bell'attrice, brava e poi anche sensibile a queste tematiche che sono sempre attuali, ricordiamo. Sempre attuali, sempre poco, troppo poco affrontate. Cioè non si... bisogna capire bene queste tematiche diciamo per poterle poi affrontare, capire e speriamo sconfiggere prima o poi definitivamente. Grazie, buon lavoro. Grazie.